In occasione di una giornata di studio sul restauro e la produzione dell'arte organizzata dall'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, sono stati presentati lavori di restauro di alcune opere salvate da chiese e musei distrutti dal sisma del Centro Italia del 2016, un vero e proprio cantiere scuola allestito in Accademia, che permetterà di restituire alla collettività nove importanti opere d'arte che provengono dal territorio di Amatrice, manufatti datati tra il XVI e il XVIII secolo, che saranno restituiti grazie alla convenzione siglata con le Belle Arti. Un'occasione molto importante per gli studenti, questi saranno presenti alla conferenza stampa di presentazione il Presidente e il Direttore dell'Accademia Rinaldo Tordera e Marisa D'Alessio, la responsabile del restauro Gabriella Forcucci, il Consigliere Comunale con delega alla cultura di Amatrice Alessio Serafini e Barbara Fratoddi dell'Ufficio Patrimonio. L'importanza per gli studenti e soprattutto l'importanza con il legame col territorio, questo dimostra che la scuola di restauro all'interno della quale ci sono due corse di specializzazione possono creare innanzitutto creare lavoro, questa è la cosa più importante, soprattutto rafforzano quelle sinergie che sono fondamentali in una scuola come un'accademia. Questo è il primo rasseo di un percorso che è ampiamente più grande, che sarebbe quello della ricostruzione della Chiesa, cosa che noi stiamo mandando avanti a tappe forzate perché è molto importante. Pensate che la Chiesa d'Amatrice di San Francesco Duomo sarà l'unica opera che verrà interamente appaltata dal Comune di Amatrice, proprio per volontà del compianto e defunto Sindaco Fontanella che voglio ricordare. Qui nel laboratorio di restauro dei manufatti dipinti su supporto ligno abbiamo il Cristo di Varoni, due candelieri dalla Chiesa di San Francesco di Amatrice e due busti reliquiari del Museo Civico di Amatrice. Stiamo facendo lavori inizialmente per mettere in sicurezza, queste opere sono arrivate fra un lockdown e l'altro, le prime a marzo dell'anno scorso e altre a marzo ora, quindi stiamo mettendole in sicurezza, stiamo facendo tutti quei lavori di rimozione dei detriti, dei depositi atmosferici, polveri e detriti anche del sisma e stiamo consolidando gli strati pittorici e gli strati di lamina metallica come nel caso dei busti reliquiari. Hanno danni più o meno gravi, dipende ovviamente dall'opera, sono danni in parte dovuti al sisma e in parte anche a degrado pregresso.